No raga, epico, dovete sapere che questo video dei prodotti smaltiti che state per andare a vedere durava tantissimo ho dovuto fare di quei tagli pazzeschi che solo per questo video ci escono dei bloopers di questo video no vabbè l'abbiamo fatto impazzire a Davide no io già che ho montato il video, ho fatto i tagli mi ha fatto troppo ridere quindi vi volevo chiedere se lo volete inserito negli altri bloopers o volete un video proprio apposta bloopers dietro le quinte di questo video dei prodotti smaltiti vi assicuro che è una comica fateci sapere qua sotto nei commenti se volete il dietro le quinte di questo video perché vi assicuro che veramente c'è da ridere tantissimo vi lascio al video top ciao amici, ciao amiche ben ritrovati sul canale di coppia Davide Chiara Channel oggi video prodotti smaltiti iniziamo dal detergente intimo aloe vera della Intima Roberts questo qua ha un profumo al tè verde rinfresca e vi lascia un sollievo perché è fresco quindi potete immaginare voi ed è veramente buono come prodotto passiamo al prossimo prodotto della mucchina bagno igienizzante e anticalcare ho visto mia moglie usarlo sul marmo del lavandino è diventato uno specchio e questo qua lo usa anche mia mamma è un ottimo prodotto poi ha spruzzino anche comodo e questo qua sono 750 ml poi anche carino blu bianco tutti i colori e marca a mucchina e disinfetta anche moltissimo la doccia il lavandino e il bidet e il water tutti i sanitari disinfetta questa qua passiamo al dentifricio colgate max white questo qua veramente è bello perché vedete questi qua i micro cristalli quando lo andiamo a mettere sullo spazzolino li vediamo veramente ed è un ottimo dentifricio marca colgate apri e chiudi senza stare lì a avvitare e svitare quando si usa quindi questo è un altro ottimo prodotto passiamo al prossimo prodotto del dorante dell'adidas da uomo che vi ho fatto vedere anche nel video scorso e questo qua era un pacco da due ho finito anche con questo qua ripeto non è come gli altri non è che lascia la freschezza come c'è scritto qua 48 ore ma cala un pochettino è sempre buono ve lo consiglio ma andate su malizia intesa perché questo qua non è proprio al top però per la scelle va bene passiamo al prodotto che ha preso mia moglie prodotto dello shampoo avon questo qua è perbena e menta peperita devo dire che questo shampoo qua è ottimo perché quando si applica sulla testa lascia una schiuma non so perché io la trovo morbidosa ma veramente è una schiuma e quando andiamo a massaggiarci i capelli c'è un rilassamento totale che c'è il rischio di addormentarsi su tutta la doccia c'è anche un profumo particolare e lascia i capelli belli luminosi questo qua è veramente un ottimo shampoo e questo qua è un penso che sia ah no è un 700 ml pensavo di più comunque questo è veramente buono passiamo alla crema corpo della playboy questo qua è un 75 ml il profumo è buono infatti mia moglie ha il vizio di spremerli così quando finiscono c'è il suo tappo ottimo colore rosso e niente e lascia la pelle morbida questo qua naturalmente lo usa mia moglie non lo uso io passiamo al prodotto questo è un cocktail collection questo qua dovrebbe essere i frutti di bosco se non erro sempre un prodotto dell'Avon che mia moglie dato che è finito mi ha spruzzato un po' qua dentro no l'ho versato cioè l'ha versato qua dentro e lascia un profumo veramente è una fragranza veramente di quelle speciali ah se mi state chiedendo dove ho preso quella cosa pucciosa di Winnie Poo da Primark top questa qua l'ha presa da Primark è un'acqua profumata dell'Avon è veramente buonissima proprio lascia quella quando la spruzza e lascia un profumo veramente non so una fragranza esotica esotica ecco si ma non è un profumo per l'ambiente è un'acqua profumata questo qua è un'acqua profumata non è un profumo per l'ambiente però ogni tanto quando se ne mette talmente tanto cioè tutti i giorni e va in giro per la casa è una profumazione nuova che è uscita ma mi piace vediamo se dice bene passiamo a questo colluttorio me l'ha dato il dentista 200 ml per la cura dei denti delle gingive è veramente buono perché comunque quando il dentista fa un lavoro è proprio il dentista che dice di usare questo colluttorio e ti lascia le gingive belle rosa e rinforza tutto quanto da un piccolo rinforzo durante il lavoro poi passiamo qua Equilibra questa è una maschera per capelli una maschera protettiva ma dice mia moglie che è pessima l'ha usata tutta nonostante tutto no non l'ho usata io l'ha usata la Malika l'ha usata mia nipote Malika perché però dicono che è pessima non so perché no no compra mai più perché non fa quello che dice dice che non fa quello che dice questa maschera protettiva vedete voi passiamo al detersivo per la lavatrice della Dash questo qua è un è un classico 18 lavaggi ed era nel pacco da 3 quando siamo andati a fare la spesa all'essere unica conveniente perché comunque se ne mette una piccola dose e anche questo lascia un buon profumo ottimo prodotto e questo è un 990 ml vedete ah naturalmente Chiara ha i suoi prodotti mentre la mia madre ha i suoi prodotti Chiara è fissata proprio passiamo prossimo prodotto una morbidente della Lenore questo qua ha il profumo di oro e fiori di vaniglia infatti questo mia moglie lo usa perché è fissata con i suoi prodotti per la lavatrice ha un buon profumo è un buon profumo e questo è un litro e 0,5 però è veramente buono appare che a me la vaniglia mi piace quindi e siamo al top con la cocca è migliore passiamo all'ultimo prodotto qua l'ha preso mia moglie sempre questo qua è sempre un ammorbidente concentrato ha il gelsomino scarlatto sa tipo di frutta sa tipo di frutta profuma naturalmente sempre un litro 0,5 e comunque questi prodotti della Lenore sono veramente eccezionali perché lasciano veramente un ottimo profumo ma il migliore tra tutti questi è quello al cocco ma non so se è di questa marca quello al cocco però mi ricordo però non sappiamo almeno non sa mia moglie non si ricorda se di questa marca c'è anche al cocco io mi sembra di sì comunque poi andremo a vedere a verificare amici spero che questo video prodotti smaltiti fatto solo da me vi sia piaciuto abbiate preso spunti da questi ottimi prodotti e che dire niente consigliato prodotto consigliato usato e consigliato bene io ringrazio gli iscritti di sempre i nuovi iscritti e mi raccomando iscrivetevi in massa sempre di più vi voglio tutti qua vi voglio bene un bacio il solito yeah ciao ciao alla prossima ciao